Il Bitonto Art Festival compie 10 anni di attività, ma questa sera al Teatro Traetta di Bitonto c'è il riferimento all'undicesima edizione del Memorial Mimmo Bucci, una kermesse canora riservata a gruppi e non solo di musica emergente. Noi abbiamo qui la mamma e il papà di Mimmo Bucci, al quale chiediamo prima di tutto grazie per essere qui con noi e soprattutto prima di parlare dell'evento vorremmo che ci parlasse un po' di Mimmo. Mimmo è nato con la musica, la sua vita era la musica, quindi noi abbiamo pensato di proseguire così con la musica e di dare spazio a giovani che volevano emergere. In un'ultima intervista Mimmo aveva detto che voleva aiutare un'associazione che si interessasse dei giovani e quello abbiamo fatto noi, abbiamo fondato un'associazione che è rivolta ai giovani che vogliono fare musica, inculcargli una passione e promuovere ciò che vogliono fare loro. Se mi chiedi di parlare di Mimmo non basta tutto il tempo perché Mimmo oltre ad avere una cover, aveva fondato la cover, la cumbricola di Vasco, era anche un cantautore, ha fatto 3-4 cd autoprodotti e stava per spiccare il volo. Purtroppo due disgraziati su lungomare l'hanno investito ed è finita lì, tutti i suoi sogni, tutte le sue passioni sono finite lì sull'asfalto del lungomare. La lascio tranquillizzare un attimo, passo al papà così ci dà anche lui un ricordo di Mimmo. È un ricordo di Mimmo, non è facile perché bisogna riempire delle pagine intere. Mimmo lo portai da piccolino a vedere un concerto di Vasco, quando Vasco faceva 3-4 mila spettatori. Di là è subentrato proprio nell'indole, nel DNA che Mimmo imitava, tant'è vero, aveva la collaborazione di tutti i musicisti di Vasco. Noi abbiamo avuto l'occasione di conoscere Vasco personalmente quando è venuto a Bari, voleva sapere come era nata la passione. Io poi gli dissi a Vasco di salutarmelo allo stadio San Nicola davanti a 60 mila persone ed era una cosa molto emozionante. Detto questo perché bisogna parlare intere, bisogna fare delle fiction per Mimmo, voglio fare ringraziamenti all'assessorato della cultura del comune di Bitondo, al sindaco a Baticchio che ci ha fornito questa bella struttura per far esibire questi ragazzi, sperando che il 24 arrivino i più bravi al Petruzzelli. Siamo con Fabio Fornelli, l'idiatore del Bitondo Art Festival, giunta quest'anno alla decima edizione. Allora Fabio, un avvenimento particolare stasera? Beh sì, per festeggiare il decimo compleanno del Bitondo Art Festival abbiamo deciso di ospitare e condividere il percorso dell'undicesima edizione del premio Mimmo Bucci con il supporto dell'amministrazione comunale qui al Teatro Traetta. Diamo vita e diamo suoni a 12 band da tutta Italia che si esibiranno tra oggi e domani portando in scena la musica inedita, la musica italiana. Quanto è importante fare questo tipo di eventi a Bitondo? Io parlavo prima con la mamma di Mimmo al Traetta Bitondo. C'è sempre un'importanza abbastanza fondamentale per la nostra città? Beh sì, Bitondo si sta contraddistinguendo in questi ultimi anni per il numero di festival e anche per festival di musica inedita come anche il cantautore Bitondo Suite che sono appunto degli spazi aperti a ragazzi, a uomini, donne più o meno giovani che hanno qualcosa da dire attraverso l'arte, in questo caso attraverso la musica. L'importanza è fondamentale e vitale perché sono innanzitutto un modo per far conoscere la nostra città ma poi sviluppano tutto un indotto anche se vogliamo turistico ed economico che appunto ci consente di vivere anche dall'arte e con l'arte. Senti, si sta chiudendo il 2018, riesci a fare un assunto completo di quest'anno del Bitondo Art Festival? Il Bitondo Art Festival è un festival permanente, quindi si sviluppa attraverso numerose iniziative durante tutto l'anno. Se vogliamo appunto alla fine del 2018 questa è la conclusione di un anno che ha visto numerose esibizioni, numerose trasferte anche perché il Bitondo Art Festival spesso è impegnato nel portare gli artisti fuori dalle mura cittadine o comunque da quella che è la città metropolitana. Quindi l'assunto non posso che ritenerlo assolutamente positivo con l'auspicio di continuare ad avere quello che è il supporto della pubblica amministrazione che è fondamentale per la cultura e soprattutto con l'auspicio di vedere sempre più ragazzi avvicinarsi a questo tipo di iniziative, sostenere quella che è la musica inedita che dal 1998 noi ci sforziamo di promuovere e appunto creare spazi di aggregazione giovanile che sono fondamentali per il benessere di una società e di una comunità come quella di Bitondo in particolare. Riesci a dirci qualcosa per il 2019 a livello di spoiler o no? Beh sicuramente il connubio col premio Mimmo Bucci che ha come finalità quella di promuovere la musica inedita credo che sia d'obbligo e un dovere anche morale. Per il momento limitiamoci a questo perché qualcosa di esplosivo potrebbe sicuramente esserci ma al momento giusto lo rendremo pubblico. Grazie.